Serena giornata alla Pino Mangione, il cosiddetto Gioca tra quegli stivali. In questo momento di riflessione alla soglia di nuovo anno, è il mio consuetudine condividere con voi la mia letterina a Babbo Natale, con un pensiero dal profondo del cuore. Sai, nel 2023 ci siamo sentiti più liberi della pandemia, ma preoccupati per tutte le guerre vicine e lontane. È stato però anche l'anno in cui la scintilla dell'intelligenza artificiale è iniziata a brillare ed illuminare molti angoli dei nostri modi di agire, professionali e personali. In questo scintilio tecnologico non dimentichiamo mai ciò che ci rende davvero speciali. E questo è il mio messaggio. Cos'è che ci rende speciali? Che ci differenzia dall'intelligenza artificiale? Sono le nostre emozioni, i nostri sentimenti, il nostro cuore. Questo sarà sempre l'unico. Quest'anno, più che mai, vi invito a immergervi nel vostro lavoro, nei vostri rapporti interpersonali, con un amore profondo, con quella passione che ci fa brillare gli occhi e ci scaldarà. Siate unici, diversi, irripetibili nella vostra arte, nella vostra scienza, nella vostra vita. Mettete l'anima in ogni progetto, in ogni attività, in ogni rapporto con l'altro. Cosa chiedo quindi a Babbo Natale? Chiedo di imponderci la forza e la perseveranza, di mirarci nell'appracciare le meraviglie della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Ma al di là di ogni strumento, di ogni software, vi esorta a ricordare che il cuore, la passione, i sentimenti appara la vera differenza. E questo è il fuoco che illumina ogni nostro successo, che tocca la vita di cui ci sta accanto, che trasforma un lavoro in una missione e in un'attività. Nel 2024 vi auguro di vivere ogni giorno con questa scintilla nel cuore, di usare la tecnologia non solo come uno strumento, ma come un'estensione della vostra passione. Vi auguro anche che ogni vostra attività non sia solo un'opera tecnicamente o tecnologicamente perfetta, ma un'affermazione della vostra vita. Dentro ogni tuo lavoro, ogni tua attività ci deve essere tu. Vi auguro l'anno in cui ogni sfida diventa un'opportunità di crescita, dove ogni giorno sia un capitolo di una storia emozionante che scriviamo insieme. Buona festa a tutti voi, che il nuovo anno sia un viaggio straordinario di scoperte, di innovazioni, ma soprattutto di amore. E come sempre, ricordiamoci di tendere una mano a chi ha più bisogno di noi, perché ci sarà sempre qualcuno che ha più bisogno di noi, e perché alla fine è l'amore che condividiamo a rendere tutto più luminoso. Buona festività e buona vita da primo mattino. Buona feste!